Come mai il penitenziario di Trani ha deciso di aderire a questo progetto? A questo progetto è la terza edizione. Abbiamo avuto un notevole successo nell'ambito della casa reclusione femminile. Le detenute sono state molto entusiaste sia per lo scambio di esperienza con operatori che venivano dall'esterno e sia per l'acquisizione di competenze e abilità che poi potranno spendere al momento della dimissione. Quest'anno l'abbiamo voluto realizzare all'interno del carcere maschile proprio per dare un'opportunità anche all'utenza maschile e quindi al momento della dimissione poter spendere queste competenze. Considerato che il numero dei detenuti all'interno della casa circondariale maschile è più elevato. Anche per una coincidenza di passaggio delle cucine che erano in carico a cooperative esterne da gennaio 2015 sono passate nuovamente all'amministrazione penitenziaria. Quindi l'interesse è anche quello di elevare il livello qualitativo della cucina, del confezionamento dei passi proprio utilizzando la manodopera dei detenuti. Il nostro intento era quello di dare una prosecuzione a quel progetto iniziato due anni fa, questo è il terzo anno, col carcere femminile affinché questa cosa non fosse solamente un momento per parlare di sé o della propria attività ma fosse veramente inserito in un percorso serio. Quest'anno abbiamo colto l'invito della direttrice di passare il progetto al carcere maschile e mi è venuta l'idea di legare, ecco perché poi avevo chiesto l'aiuto del presidio del libro che è accorato e rappresentato dalla professoressa Angela Pisicchio, di unire cibo e cultura, quindi di trovare dei libri che aiutassero a far capire quanto dietro il cibo ci sia di recupero di tradizioni, di sapori e anche di rapporto con l'ambiente, col sociale, con la natura, con le coltivazioni affinché il cibo non rimanesse solamente un momento conviviale ma si riagganciasse anche ad una possibilità di riconciliazione con il mondo esterno. Un progetto pensato e ideato anche da Factory del Gusto, come nasce questa collaborazione? Allora il progetto è stato pensato e ideato e strutturato da Factory del Gusto ovviamente in collaborazione con l'azienda Granoro, noi useremo tutti i prodotti Granoro anche perché sono prodotti relativi al nostro territorio che è il nostro territorio che dobbiamo portare avanti in quello che è la realizzazione dei piatti. Si sono svolte già precedenti edizioni di questo progetto, qual è stato il riscontro da parte dei detenuti? Il riscontro è stato molto positivo, positivo soprattutto perché la sperimentazione e l'acquisizione di abilità e successivamente anche di competenze costituisce un'occasione per soggetti in esecuzione penale per avere l'occasione di riprendere in mano la propria esistenza attraverso un percorso di necessaria responsabilizzazione del sé, delle proprie capacità delle proprie potenzialità e di come poi queste vengono spese in senso positivo. Grazie. Grazie.